Pubblicato il censimento dell'Istat che fornisce alcune importanti riflessioni. Calano ancora residenti in Italia nel 2019. A fine anno si legge la popolazione censita in Italia ammonta circa 60 milioni di residenti, circa 175 mila persone in meno rispetto al dicembre 2018, anche se risulta stabile nel confronto con il 2011, anno dell'ultimo censimento della popolazione. I residenti diminuiscono nell'Italia meridionale, nelle isole, aumentano nell'Italia centrale ed in entrambe le ripartizioni del nord. Sono invece circa 700 mila decessi complessivi del 2020. L'ultima volta era accaduto nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ad illustrare i numeri è stato il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo durante una trasmissione televisiva nel 2019 precisa, il dato era stato di circa 647 mila morti. Il censimento stabilisce inoltre che l'età media degli italiani si è innalzata nel 2019 di due anni rispetto al 2011 ed è cresciuto l'indice di vecchiai, ovvero il rapporto tra gli over 65 e gli under 15. La Campania con 42 anni e la regione con la popolazione più giovane, seguita da Trentino, Alto Ad, dice 43, Sicilia e Calabria, entrambe con 44. In Italia diminuisce la popolazione complessiva ma aumenta quella straniera che nel 2019 ha superato i 5 milioni così come, si dice e si legge nella nota, in Italia il 50% delle persone ha al massimo la licenza media mentre i laureati superano e rappresentano circa il 13%. Si conferma quindi nel 2019 il calo dei residenti nel meridione e nelle isole. La popolazione è diminuita nel complesso di 127 mila unità circa rispetto al 2018 a fronte di un calo complessivo di 175 mila persone in tutta Italia. Rispetto al 2011 si è assistito quindi ad una riduzione di circa 425 mila residenti.